Ciao ragazzi, ciao a tutti dall'elettronica che non ti serve, scusate se sono scomparso ma le feste come a tutti hanno cagionato grandi dolori di panza ho un po' di prodotti nuovi da recensire, gran parte regali, dato che i quattrini sono purtroppo i miei finiti vedete davanti a me il famoso Fitbit Charge HR, non è nient'altro che un tra virgolette semplicissimo tracker delle vostre prestazioni fisiche tra i braccialetti sportivi che abbiano solo la funzione proprio delicata oltre a indicare l'ora come potete vedere è sicuramente il più famoso, è un prodotto che mi è stato regalato grazie Stefano devo dire che non pensavo mi sarebbe mai servito qualcosa di simile perché credevo che io uso Android quindi su Android in particolare sull'S6 c'è questa versione aggiornata dell'SELT se lo trovo ve lo faccio vedere, io purtroppo non compro ormai niente che non abbia il tasto indietro perché non so su iOS se ci sia qualcosa di simile o se ci sia qualcosa di migliore addirittura di questo l'SELT obiettivamente è un prodotto straordinario soprattutto perché permette di controllare i battiti cardiaci permette di controllare chiaramente gli spostamenti con il GPS la camminata, la corsa, si possono anche aggiungere delle cose interessanti tipo la caffeina, se riesce a mettere a fuoco forse è meglio sta telecamera di merda e altre cose c'è anche poi il coach by Cigna pensavo quindi con il mio bellissimo S6 di avere tutto quanto già a disposizione in realtà mi sbagliavo perché il Charge HR, il Fitbit che adesso vi faccio vedere, la confezione è molto bella, molto curata e interessante perché ha questo vero e proprio classico porta orologi il Fitbit in realtà, dicevo, è molto molto più completo innanzitutto perché le statistiche sono più accurate quindi soprattutto il cardiofrequenzimetro su cellulari come questo bisogna farlo manualmente appoggiando appunto il dito sul sensore e così viene rilevata anche la quantità di ossigeno nel sangue invece qua può essere impostata come controllo continuo quindi 24 ore al giorno e anche durante la notte tramite questo sensore che potete vedere che è un sensore assolutamente identico a quello che c'è dietro il cellulare che appunto misura la pressione cardiaca allora il cellulare di per sé è spento nel senso che si può impostare anche che scuotendolo si accende in automatico schiacciando l'unico pulsante che c'è sul lato sinistro è possibile accedere innanzitutto allora, come vedete in secondo luogo i passi che sono stati effettuati in terzo luogo al battito cardiaco allo spostamento, quindi a quanti metri, chilometri si sono effettuati e invece questa è la visualizzazione anche della distanza allora, si tratta di un prodotto molto leggero molto bello nel senso che le plastiche sono assolutamente assolutamente si vede che sono resistenti quindi durature e chiaramente waterproof quindi non dovrebbe patire di particolari sudate o quantomeno a me non ha mai fatto non ha mai dato problemi la misurazione è assolutamente affidabile io ho provato a misurare con del battito cardiaco dico assolutamente affidabile ho provato a misurarlo sia con il cellulare sia con un apparecchio della Vega professionale di quelli che misurano anche la pressione sia con questo in assoluto questo e quello della Vega sono identici nel senso che non c'è nessunissima differenza il cellulare molte volte misura un po' di meno molte volte molte altre un po' di più questo aggeggio si ricarica con un cavo proprio della Fitbit che è questo che va agganciato adesso vediamo se non riesco a spaccare tutto esatto va agganciato qua la ricarica impiega circa due ore e mezza la ricarica completa però già a mezz'ora il Fitbit è pronto per seguirvi per almeno un'oretta per almeno che lo scusa due orette la ricarica totale dura almeno 5 giorni io l'ho provato mi è durato un po' meno perché io controllo sempre il batterito cardiaco però è data per durata di batteria 7 giorni che è fantastico quindi vuol dire che vi dimenticherete di ricaricarlo tra parentesi l'applicazione per Android che si scarica gratuitamente chiaramente da Play Store è un'applicazione assolutamente assolutamente semplice come vedete indica se l'avete indosso i battiti cardiaci qua sta sincronizzando vi indica i passi quindi i medesimi dati che vi ho fatto vedere prima e soprattutto vi può fare vedere sul battito cardiaco per esempio così come su tutti gli altri impostazioni esattamente quello che è stato rilevato nel periodo in cui l'avete indossato vi dà la media vi dà immagini di allenamento quindi vuol dire esattamente quanto potete andare a spingere sul vostro fisico vi dà la possibilità anche di zoomare per vedere esattamente momento per momento come è andato il vostro cuore giorno per giorno per esempio il 26 dicembre questo è stato il mio quindi dovrei essere morto probabilmente allora io vi dicevo io non riesco a utilizzare IOS in alcun modo proprio non ce la faccio nel senso che per me il pulsante indietro di Android è l'unica vera ragione per comprare Android ormai io vorrei un frigorifero con il tasto indietro vorrei non lo so una sigaretta col tasto indietro una cipolla perché è veramente comodissimo io riesco a utilizzare solo esclusivamente più questo il Fitbit è un accessorio assolutamente utile non solo per chi come molti di voi che mi stanno ascoltando si spera cioè due o tre in tutto vogliono fare o devono fare o preferiscono fare molta attività fisica durante il giorno ma anche per chi come me è un sedentario di merda perché gli aiuta appunto a tenere sotto controllo i battiti cardiaci e a regolare un po' il proprio stile di vita quindi a capire il livello dello stress eccetera eccetera il Fitbit pesa pochissimo come vi dicevo prima quindi è molto 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 comodo per qualunque polso nelle impostazioni la prima cosa da settare è qual è il polso che utilizzate cioè se siete mancini o se siete destri questo in quanto chiaramente c'è una differenza nella misurazione del battito cardiaco la cosa molto che mi è piaciuta moltissimo oltre appunto alla batteria che vi dicevo prima è il fatto che si sincronizza tramite bluetooth con il cellulare ci mette un po' di tempo però voi potete veramente avere il Fitbit a distanza di 200 metri lui ve lo trova e ve lo riconosce lo stesso altra cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo a parte il fatto che non l'ho pagato perché ho visto che questo gengino costa quasi 150 euro in offerta su Amazon a 130 l'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto è l'interazione col cellulare e quindi il fatto che è possibile mettere degli alert sul cellulare ora che differenza c'è appunto fra S-Helt e questo Fitbit c'è perché io dovrei scegliere il Fitbit piuttosto che accontentarmi del già ottimo veramente ottimo programma S-Helt che si trova su preimpostato sui nuovi Galaxy preinstallato allora innanzitutto perché come vi dicevo prima non c'è la misurazione non è possibile effettuare la misurazione continua del battito cardiaco se non comprando lesgear o un'altra cagata della Samsung però in realtà la cosa che mi è piaciuta di più è proprio l'impostazione dove è possibile utilizzare il Fitbit non solo con il programma Fitbit quindi dell'azienda che lo produce ma con molti altri programmi che lo riconoscono e permettono di fare il tracking delle vostre attività quindi è una sorta di open source non può essere utilizzato non solo con il programma io ho provato con altri due programmi trovati sul Play Store ed effettivamente lo riconoscono e riescono a capire il tracking dell'attività fisica quindi quanto si è fatto quanto non si è fatto e quindi un aggeggio assolutamente utile per chiunque certo è molto caro perché per quello che offre si trovano dei prodotti non di marca che fanno più o meno le stesse cose poi bisogna vedere l'affidabilità del misuratore dei battiti del cuore chiaramente però non è a buon mercato perché si trovano a meno di 50 euro dei braccialetti non di marca che fanno più o meno le stesse cose magari senza il display bisogna vedere che tipologia di utilizzo voi ne facciate oppure quanto effettivamente questo sia resistente a me sembra resistentissimo vi dirò poi fra un po' di tempo anche facendo attività fisica non solo camminate come ho fatto in questi giorni per smaltire i 60 panettoni che mi sono mangiato e vi dirò se resiste come resiste al sudore eccetera voto sicuramente 8 rapportato agli altri braccialetti elettronici che fossero orologi che fossero semplicemente unifunzione come questo voto perché non c'è paragone con nessuno per quello che riguarda la batteria soprattutto per quello che riguarda la rilevazione dei battiti cardiaci che è perfetta 6 5,5 anzi al prezzo perché effettivamente è troppo caro è una scelta non mi sento chiaramente di dire un must have perché dipende l'uso che ne volete fare e soprattutto che tipo di sportivi che tipo di persone sono vi faccio rivedere prima di concludere ancora una volta il programma perché mi stavo dimenticando di una cosa abbastanza importante cioè andando a vedere sul ecco esattamente c'è anche l'impostazione dei piani questo è molto interessante perché in realtà uno non se ne rende conto però le scale fanno bruciare moltissime calorie ed è molto 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 interessante che cosa dà sul riposo non ho ancora dormito con questo devo dirvi la verità però visto su internet che gli obiettivi di sonno sono fondamentalmente la misurazione del battito quindi si permette al Fitbit di verificare esattamente quali sono le vostre condizioni cardiache durante il sonno che il momento in cui a quanto pare così ho letto su internet sulle istruzioni del Fitbit Charge HR la misurazione del battito è sicuramente quella più attendibile appunto durante il sonno grazie per la tonica che non vi serve tutto ciao